Allora, Giù per il tubo, è un film complesso, perché nasce dalla collaborazione di DreamWorks con Herdman Studios, i creatori di Wallace e Gromit, vabbè, molte altre creazioni molto importanti in Inghilterra e in tutto il mondo, Sean the Sheep, insomma, hanno fatto dei prodotti veramente, veramente pregevoli, soprattutto Wallace e Gromit è stato rivoluzionario in un certo senso. Comunque con DreamWorks hanno sempre collaborato e hanno fatto anche delle produzioni molto, molto interessanti. Non è questo il caso di Giù per il tubo, perché Giù per il tubo ha una grafica in CGI che si riprende l'estetica di Herdman, ma non il modo di fare di Herdman, cioè non la plastilina, l'animazione in plastilina, Clay Animation che ha reso la Herdman famosa in tutto il mondo. Quindi abbiamo lo stile, i design dello studio, ma non abbiamo la stessa tecnica. Perché? Perché era un film che coinvolgeva le fogne, l'acqua e quindi loro avevano molta paura di realizzare questo film, un po' per i costi, un po' appunto per questo elemento che avrebbe complicato la produzione del film. E quindi hanno utilizzato l'estetica, quindi gli occhi ravvicinati e i dentoni rotondi, queste faccione tutto un po' slargate, oblunghe, ma hanno utilizzato la CGI. Il risultato, a mio parere, è una roba molto plasticosa, un po' troppo finta, un po' troppo fredda rispetto invece a quel tocco un po' old fashion della plastilina, che è comunque old fashion una sega per quanto riguarda l'Hardman, perché se vedete Pirati o guardate anche l'ultimo, che non è un capolavoro, ma comunque è un film che si può guardare ai primitivi, ormai l'Hardman ha raggiunto un livello tale con la Clay Animation che difficilmente può farsi bagnare il naso dagli altri studi concorrenti, anche se ci sono studi concorrenti con la Clay Animation che veramente spaccano, come Laika per esempio, e che hanno raggiunto un livello molto alto. Fatto sta che Giù per il Tubo purtroppo non fa parte dei grandi lavori usciti dall'Hardman, e non è nemmeno un grande lavoro uscito dalla Dreamworks, perché a livello narrativo è una classica storia senza particolari guizi creativi e colpi di scena o idee che ti fanno gridare al miracolo, anzi. Sta cosa che lui va appunto giù per il Tubo e si trova in questo mondo delle fogne, con tutta la sua realtà, insomma, a me non ha mai stupito, non ha mai appassionato, anzi, mi ha parecchio fatto sonnecchiare come film. Quindi, guarda, io non lo metterei in D, secondo me, e passa la paura. Megamind. Allora, il mio rapporto con Megamind è molto complesso, è molto divertente, molto furbo, anche, però più che altro divertente. Mi ha fatto ridere, ci sono delle stronzate veramente niente male, mi piacciono sempre film d'animazioni che approfondiscono un cattivo rispetto all'eroe, anzi, apprezzo ancora di più il fatto di rendere cattivi o controversi i personaggi che dovrebbero essere positivi su schermo. L'unica cosa che non mi è mai piaciuta di Megamind è la sua estetica. La sua estetica, che ricorda un po' il fumetto degli anni cinquanta, soprattutto quello della DC, ma anche il fumetto fantascientifico di serie B degli anni cinquanta, nonostante in altri ambiti, in altre pellicole, in altri fumetti l'abbia apprezzato, qua l'ho trovato un po' troppo... non lo so, un po' troppo caricaturale, un po' troppo... preferisco i tratti un po' più dolci, se devi crearmi questi tratti appunto allungati, un po' distorti, con questi occhioni strambi, eccetera, preferisco magari quando lo si fa, quando si spinge l'acceleratore per davvero magari come la fa l'Hardman. Quindi lo metto in A, Kung Fu Panda. Ragazzi, guarda, qui passa... anzi, guarda, va. Kung Fu Panda 1 lo metto in A, ma semplicemente perché devo mettere in S alcuni dei suoi sequel. Vi spiego perché lo metto solo in A, ragazzi, perché c'è Kung Fu Panda 2. Se non fosse esistito Kung Fu Panda 2, forse l'avrei valutato diversamente. Comunque, allora, partiamo dal primo. Allora, il primo è bellissimo. È bello il cattivo, è bella l'avventura, è bella la scoperta, sono bellissimi gli sfondi, sono bellissimi gli scontri ispirati a veri combattimenti di Kung Fu. Ovviamente ci sono tantissime citazioni anche ai film di botte, quelli un po' più alla Ang Lee, dove questi corpi volano senza senso. Vabbè, giustamente un cartone animato. È bello che ci siano degli scontri, dei combattimenti di Kung Fu così surreali, perché tutto è concesso all'animazione, però sono anche molto fedeli alla realtà quando si devono prendere sul serio. Gli altri personaggi sono fantastici, è bellissimo Ugwey e le lezioni che dà. Sono anche lezioncine interessanti, nonostante siano gli americani che cercano di riprendere un po' la filosofia orientale, però sono bei messaggi per i ragazzi. È una bella rivalza, una bella rivalza del personaggio, possiamo dire, obeso, sottovalutato, preso per il culo, che se ne sta nel paesino tutto solo a fanseggiare. Sui suoi idoli, che ad un certo punto riesce a uscire fuori, riesce a far capire a tutti che, come al solito, non importa chi sei, ma le azioni che compi nella vita a farti ricordare da chi ti vuole bene, a farti ricordare dalle persone che ti circondano. L'unica cosa che non mi porta a inserire Kung Fu Panda nella categoria S non è solo l'esistenza del suo sequel, che è nettamente migliore sotto tutti i punti di vista, ma perché fondamentalmente racconta per l'ennesima volta, e non è un difettone, però racconta effettivamente per l'ennesima volta un percorso che abbiamo già visto in tantissimi film d'animazione. Anzi, in tantissimi film e basta. Nonostante appunto la qualità tecnica eccezionale, i combattimenti straordinari, l'avventura delle scene a livello registico spaziali, come quella dell'evasione, una scena così, ragazzi, è difficile girarla in qualsiasi pellicola per qualsiasi regista. Invece Osborn ce l'ha fatta ed è riuscito a creare qualcosa di veramente eccezionale. Quella scena dell'evasione sarà difficile da essere replicata su qualsiasi fronte. Ma anche la scena del combattimento finale è eccezionale, le musiche sono spettacolari, quei colori, gli allenamenti, mi piacciono tantissimo. Come lui riesce a capire che effettivamente può diventare il guerriero dragone cercando il cibo in giro per la dispensa. Insomma, è veramente pieno di gag interessanti anche. È tutto perfetto, tutto bello. Turbo, una merda, semplicemente una merda. È karts con le macchine, sì, con le lumache. Una trama vista a cento altre volte, ma non ha così tante idee come Kung Fu Panda da farsi entra giù questa roba. I personaggi sono insulsi, stupidissimo, non dà niente né ai grandi né ai piccini. Una roba perfettamente dimenticabile che DreamWorks ha creato solamente per far cash-in e cercare di farti film magari più bellini. Complimenti, Turbo, ti vai in bio-broli. Trolls, un film basato su un brand di giocattoli degli anni 90. Una merda, roba già vista, anche qua. Idee senza senso, noiose, una regia inesistente, un film solamente per vendere giocattoli e per i rincognoni bambini coi colori. Se, è bio-broli. B-movie. Questo è complicato. Non è un film propriamente buono. Però ha delle cose che salverei. Allora, B-movie è un film voluto avvoltemente da Jerry Seinfeld che ci ha messo un po' la sua impronta. Però, ragazzi, è un po' scialbo, mi ha annoiato parecchio. Però mi ha interessato tantissimo il discorso sulle api. So che è strano. Diciamo che la gerarchia che si vede in B-movie, il funzionamento della vita delle api, di come è strutturata la vita delle api, di come si comportano, i dialoghi su di quei... Cioè, non mi è dispiaciuto. Una cosa che mi ha interessato è che non ho visto in altri film. È molto particolare. Forse ho visto la stessa cosa in Zeta la formica, però sulle formiche. Con tutta la gerarchia, no? Del formicaio, i lavoratori di qua, i soldati dall'altra parte, si va a combattere la guerra, la politica. Non è così profondo come con Zeta la formica. Però c'era questo aspetto che mi intrigava. Era strano, particolare. Però il film, di per sé, ragazzi, è un po'... Ripeto, un po' scialbo. Non ci ho trovato quell'inventiva, non ci ho trovato quella trama così importante da farti dire Certo, però... Sia che profondità, ma che bellezza. Oddio, mi sto appassionando tantissimo. Non vedo l'ora di scoprire come andrà a finire... Cioè, non te ne frega quasi un cazzo. Quindi... Quindi, semplicemente, ragazzi, io lo metterei... Nemmeno in B. Potrei metterlo in B per il meme, ma non è da B. Ma lo metto, guarda... Ci vai. Mostri contro alieni. Oddio, allora... Anche qua è complicato. Perché Dreamworks a volte fa questi film che magari non ti piacciono, però c'hanno delle cose che ti fanno dire però questa roba era interessante. Ma perché? Perché? Mostri contro alieni è un film che avrebbe avuto tanto cuore. Perché c'è di mezzo i kaiju, la fantascienza anche qui anni 50, quel tipo di fumetto weird che gli americani apprezzavano tanto, quei mostri che si potevano trovare nei romanzi leggeri di fantascienza, appunto, nei fumetti Weird Science che producevano negli anni 50 gli americani che poi pesantemente censurarono. C'è tutto questo mondo, tutto questo immaginario tipicamente americano, ma anche perché no, giapponese, che ti fa dire cazzo, però questo era interessante. Poi ci sono anche tutti i disaster movie che gli americani piace tanto fare, con tanti soldi, ma anche con due lire. Ci avrò messo tutto questo immaginario che mi piaceva tantissimo. C'era anche una citazione a Spielberg, varie, c'era veramente tanta fantascienza, anche alta, c'era veramente tutto i mostri contigliani, però quando l'ho guardato io mi sono annoiato parecchio, e soprattutto quel design, io proprio, ragazzi, non lo sono riuscito a mandare giù, non ce l'ho fatta. Cioè, quel cazzo di character design, anche di mostri, io non ce l'ho fatta. Mi sembrava quasi, non ti dico horror, però mi inquietava, c'era qualcosa di strano, era troppo weird, era brutto, non mi piaceva. E non mi sono divertito come mi aspettavo di divertirmi su un film che mette sul piatto tutta questa roba. Quindi io direi... io dico E. Forse sono un po' troppo cattivo, ma dico E. Hufu Panda 2, S, basta. Cioè, non c'è nient'altro a dire. Prende tutto... Ah, ragazzi, mi emoziono solo a pensarci, cazzo. Prende tutto quello che ha fatto il primo e lo potenzia a dismisura. I combattimenti sono eccezionali, la regia esplode. Il combattimento finale tra Poo e, vabbè, non vi dico chi, ma tanto è scontato, è qualcosa di incommensurabile anche perché non abbiamo una creatura molto simile ai cicloni, ma abbiamo una creatura completamente diversa dalle creature che abbiamo già visto nei precedenti film. Abbiamo questo pavone bianco che usa le cazzo di piume come lame e questo ovviamente crea dei combattimenti veramente assurdi che non mettono di mezzo solo il Kung Fu ma anche delle tecniche stronze, delle tecniche da assassino. Poo, scusate, ho detto Poo. Poo, quindi De Poo mi è venuto in mente. Poo che mette anche nel mezzo delle tecniche da assassino, quindi da cattivo stronzo vero che appunto a contrasto di un'arte meravigliosa come può essere quella del Kung Fu e poi soprattutto c'è l'approfondimento del background di Poo che è stupendo perché mette sotto una nuova luce questo protagonista e ci fa capire che effettivamente la scelta di mettergli un papero come padre non è una cazzata, non è una gag ma è più profonda di quello che vogliamo pensare. E soprattutto il passato di Poo approfondito tramite quel flashback eccezionale che scalderebbe il cuore e inquieterebbe qualsiasi generazione possibile e immaginabile ci fa arrivare a quella scena finale post combattimento che ti apre il cuore che apre ovviamente la strada per il secondo sequel e ti fa dire cazzo che bomba ho visto un film eccezionale dove Poo diventa finalmente maturo non è solo gag ma anche un approfondimento che ce lo fa diventare più adulto ce lo fa accettare di più ce lo fa abbracciare ci fa capire perché Poo è finito in quel villaggio perché è sempre stato un outsider e quindi è bello che abbiano tolto un pochino di gag per metterci più tristezza anche horror perché secondo me la scena del flashback in certo modo può essere anche horror comunque drammatico inquietante e hanno dato spazio veramente di più alla trama questo l'ho apprezzato e poi ragazzi vabbè come lui familiarizza con la nuova tecnica quella dell'acqua della gocciolina dell'acqua che si fa scorrere addosso il discorso appunto del vabbè non vi sto a dire che cosa ha fatto il cattivo finale però diciamo collegare il passato di Poo al cattivo perché nel primo il cattivo è una persona che Poo deve sconfiggere ma sì la battaglia appartiene a lui ma fino a un certo punto questa invece è una battaglia che lo riguarda direttamente quindi in un certo senso Poo deve sconfiggere quel cattivo deve arrivare alla fine del combattimento lo deve fare anche per se stesso quindi è veramente tutto più bello tutto più profondo tutto più importante da scoprire da guardare da amare veramente oh Rise of the Guardians come si chiamava in italiano i cinque guardiani no le cinque leggende un film sottovalutatissimo dimenticato troppo presto no ammelo sucate ragazzi ammelo sucate la grandissima è la mia tier list non me ne frega un cazzo questo va in S tranquillamente il miglior Babbo Natale della storia del cinema nessuno me lo toglierà dalla testa perché io quando ho visto Babbo Natale gigantesco con l'avambraccio più grossi delle micosce che ha i tatuaggi che ho scritto buono e cattivo cioè godevo mi piace molto come le cinque leggende siano effettivamente cinque personaggi delle leggende comunque dei miti del folklore americano non solo poi è bello è bello come hanno integrato i poteri tra di loro è bella la storia è un bel film ma natalizio ma secondo me lo si può guardare anche in tutti i momenti dell'anno scalda il cuore è molto romantico molto nostalgico le scene d'azione sono fantastiche sono bellissimi tutte e cinque le leggende mi piace moltissimo il protagonista come l'hanno reso perché è più giovane in esperto un po' di belle rispetto agli atti che invece sono scavati e hanno l'esperienza sulle spalle il cattivo è veramente veramente figo anche se mi aspettavo qualcosa di più originale invece ci hanno messo proprio quel cattivo ma va bene lo stesso ce la facciamo andare bene è magico come film è pieno di effettoni è pieno di esplosioni colori bellezza magia è proprio un film che ti fa tornare bambino ma ha quella maturità che te lo fa guardare anche da grande apprezzando le cinque leggende è veramente un film da vedere assolutamente a tutti i costi e che ripeto è stato dimenticato troppo in fretta perché aveva tantissime idee tantissimi personaggi carismatici e la trama seppur lineare e semplice regalava emozioni a Natale a Pasqua d'estate sempre perché era ricco di magia era quella magia che ti fa tornare bimbo e un plauso a Sandman che è stato tanto criticato perché sta sempre zitto e perché era solamente una macchietta secondo me invece spaccava perché ogni volta che usava un potere mi veniva il cazzo ritto e dicevo guarda come hanno utilizzato la sabbia mediana e intelligente guarda come svillucica la sabbia sto per vomitare al cobaleni godo vorrei abbracciare tutto quello che esiste in questo mondo sì ma parco 2 stai calmo stiamo parlando in animazione non di Naruto i cruz oh arriviamo a veramente l'elefante nella stanza per citare un vecchio meme io non capisco perché questo film ha ricevuto così tanto hating ti giuro io l'ho visto al cinema e ero partito veramente con basse aspettative perché tutti mi avevano fatto un cazzo così vado a vedere questo film e faccio cazzo ma è un buon film perché così tanto hating F addirittura raga ma ma di che cosa stiamo ma perché i cruz è uno dei film d'animazione che più spiega meglio il concetto di famiglia alle famiglie è un film che basa tutto il suo potere su questo cioè appunto sul concetto di protezione sul concetto di completarsi a vicenda non ci comprendiamo non ci troviamo siamo diversi siamo generazioni diverse anche nella preistoria possiamo avere dei diverbi ma se ci sappiamo trovare possiamo superare qualsiasi avversità anche le avversità che possono affrontare degli uomini primitivi mi è piaciuto tantissimo e sono veramente di rara bellezza le scene soprattutto del padre rimasto da solo nella caverna al buio che prende questo sasso e inizia a tracciare sulla caverna dei disegni che gli ricordano la sua famiglia perché in quel momento lui è rimasto solo illuminato solo da questa fiammella disegna la sua famiglia con questa specie di tetto questa curva che ricorda la caverna e che appunto li racchiude in un unico insieme quella cosa lì è veramente molto romantica molto bella ed è bella l'avventura che vivono questi cruz perché cercano di appunto sostenersi a vicenda e anche quando appunto non si trovano trovano sempre il bello nel concetto della famiglia per riuscire ad andare avanti e ripeto superare ogni avversità ed è la prima volta che vedo un design così assurdo perché comunque sono molto distorti molto ruvidi questi tratti molto mascellone si tratti appunto tagliati con l'accetta che però ci stanno perché questi sono uomini primitivi a differenza dei mostri contralieni dove si cercava di riprendere un certo una certa estetica weed della fantascienza anni 50 qui siamo nella preistoria dove effettivamente gli uomini sono tutti storti tutti sfatti non sono come noi e quindi è giusto effettivamente dargli quello stile dargli quell'impronta dargli quel taglio quel mood e a me è piaciuto a me è piaciuto parecchio l'unico difetto grosso che gli trovo soprattutto nel secondo tempo è il fatto che i ritmi sono un po' troppo veloci cioè ci sono degli eventi che accadono un po' troppo velocemente la scena della caverna è bella molto toccante poetica e soprattutto se sei molto sensibile o attaccato alla famiglia e non hai litigato necessariamente ogni giorno con tuo padre e tua madre la trovi molto vicino a te ok però gli eventi che accadono prima della caverna durante la caverna e dopo la caverna sono troppo veloci troppo rapidi rispetto alla prima parte che invece si prende un po' più sui tempi quindi non c'è molto equilibrio nel film questo è l'unico difetto che gli trovo e secondo me è il difetto che gli ha portato così tanto hating ma non è così brutto vabbè comunque gli do un B gli do un B tranquillamente no Mr. Pibble e Sherman non cioè io allora Mr. Pibble e Sherman ho rosicato come un pazzo come un pazzo si basava su un cartone che comunque vecchio vecchio stile che era molto carino e poi c'era tutto dentro a questo film le viaggi nel tempo l'umano e il cane insieme che vanno a giro nel tempo cosa puoi desiderare di più da una roba del genere un umano un bambino nerdino e un cane che vanno a spasso nel tempo io l'ho guardato e ho detto cazzo però questo film non parte era c'erano delle cose carine però non voleva partire non voleva schiacciare sull'acceleratore paradossalmente faccio un parallelo con Stevie e Brian che hanno più volte fatto più volte si sono resi protagonisti di episodi speciali dei Griffin dove vanno a giro nel tempo in altre realtà fanno questi viaggi fantascientifici fantastici anche perché Seth MacFarlane è fissatissimo con la fantascienza di quel tipo e ogni volta che li rende protagonisti di puntate speciali dove sono o in giro per il mondo o in giro per le realtà o in giro per il tempo fa delle cose eccezionali ecco quegli episodi sono belli ma perché? perché a MacFarlane gli importa una bella sega spinge sull'acceleratore e distrugge tutto e tutti però stiamo parlando anche di un'altra cosa di un altro prodotto con un altro tipo di pubblico altro target va bene e questo film qui è uno di quegli episodi ma senza ovviamente la verve senza l'acceleratore faccio sto paragone assurdo mi insulteranno tutti senza la follia di quegli episodi rimane sempre in una fase di stasi rimane sempre troppo equilibrato bisognava distruggere tutto spaccare tutto fare qualcosa di più folle è un film chiaramente pensato per i più piccoli per le famiglie e non si poteva mandare in bacca tutto però io mentre lo guardavo non riuscivo a dire ecco però qua ci avrei messo un po' più di pepe qua l'avrei buttata un po' più di fuori ecco questo l'avrei approfondito cioè anche questo senza infame senza lode per me non è un film orrendo ma non è un film sicuramente memorabile guardando magari altre pellicole dello studio Dreamworks quindi facciamogli dai Kung Fu Panda 3 è bello non c'è versi no che ci dai ragazzi non iniziate allora ragazzi dopo Kung Fu Panda 2 era difficile però non è nemmeno uno di quei film che Dreamworks fa l'ha fatto per i soldi chiaramente perché non è che fa beneficenza e non è nemmeno uno studio che si nasconde dietro a un dito quando vuole incassare ma allo stesso tempo dopo il secondo capitolo era necessario un terzo ma non arriva chiaramente a livello del 2 ma secondo me non ha niente da invidiare al primo capitolo chi l'ha criticato così tanto secondo me si è fatto anche un po' influenzare dai precedenti capitoli perché secondo me è un buon film nonostante le gag siano esponenzialmente aumentate perché comunque non abbiamo un solo Po ne abbiamo migliaia e tutti sparano a cazzate come Po quindi abbiamo veramente una componente gaggistica comica chiamatela come cazzo vi pare molto più ampere rispetto al primo e soprattutto rispetto al secondo l'ho trovato molto carino ho trovato gli allenamenti di gruppo molto divertenti ma soprattutto ho trovato geniale il modo di combattere del villain di questo terzo capitolo perché il fatto di fargli utilizzare questi amuleti che si trasformano in stand tipo non è per niente male è veramente intelligente ed è bello da vedere su schermo poi è bello anche il design a me non è dispiaciuto per nulla quelle catenone vi ricordate quando usa queste catene come le fruste è veramente divertente comunque poi per il resto è Kung Fu Panda scontri bellissimi visivamente eccezionale la regia fa il suo dovere il cattivo l'ho trovato fico non come quello del secondo ci mancherebbe si lascia seguire e mi piace soprattutto come hanno approfondito il rapporto tra i due padri di Po e Po quella è una cosa molto importante che è stata anche strumentalizzata a livello politico e vabbè ma adesso non voglio di parlare perché secondo me sono proprio puttanate stiamo parlando di cartoni animati di film di cinema porca puttana state zitti zitti i cartoni animati sono sono Dio buono una tecnica non sono un cazzo di genere quindi se te fai un film sul Kung Fu se fai un film indazione commedia lo devi paragonare a tutti gli altri film di Kung Fu commedia che sono esistiti e lo devi paragonare a tutti gli altri film che sono stati prodotti nella storia quindi i bambini non vengono schiavizzati da mentalmente dall'idea che oddio po' a due padri a due padri alla fine cresceranno state zitti fatevi cazzi vostri parlate delle vostre stronzate non di cinema che siete stupidi come la merda Cristo Dio ma cioè se guardano un film si lasciano state zitti zitti porco Dio zitti bambini sono più intelligenti di voi a capire che stiamo parlando di cartoni animati vanno al cinema per divertirsi e perché vogliono Dio buono iniettarsi droga nelle pupille per godere non quando escono dal cinema dicono mamma che bello comprami po' non dicono voglio due mamme o due papà imbecilli di merda ma poi anche fosse godo godo imbecilli godo che i bambini vogliono due mamme e due papà meglio Dio Cristo che abbiano due madri o due papà rispetto a che stiano soli in un orfanotrofio a vita Cristo di un Dio quanto cazzo vi ci vuole a capirlo come fa non entravi in zucca poi mi fate usci poi mi fate uscire mi fate rivelare come se poi fosse un segreto la mia opinione come siete cretini mi immagino la sezione commenti di Youtube di questo video fributtato sarà un trionfo un insalatona mista di bellezza comunque lo metto in A Gang del Bosco vabbè me lo riordo il giusto carino mi piaceva molto il piano per arrivare all'obiettivo niente di più ecco niente di più non me lo riordo un particolare affetto gli do e non ci penso più ma poi non me lo riordo ma forse di dai non mi lo riordo si brutto allora Boss Baby era stupidissimo veramente un film mega stupido pieno di gag scemenze cazzate però c'è sempre questo problema nella Dreamworks ti fa incazzare ci sono delle cose che ti fanno veramente venire i due coglioni così però l'idea finale non era male e soprattutto quello che ti vuole comunicare col finale non era male quindi Wallace e Gromit e la maledizione del coniglio Mannaro dai ragazzi io faccio il fanboy eccoci preparatevi sta arrivando sta arrivando il Dario fanboy che quando vede Wallace e Gromit non capisce più niente nella sua intera esistenza io ragazzi Wallace e Gromit allora quando si parla dell'Inghilterra no? la gente tira fuori sempre dei personaggi simbolo Mr. Bean James Bond cioè personaggi Sherlock Holmes dei personaggi effettivamente molto UK che esprimono questa sto fascino all'inglese senza tempo ma ragazzi la Gran Bretagna potrà essere solo e comunque rappresentata da Wallace e Gromit si fotta la regina si fotta James Bond si fotta Mr. Bean si fotta Beckham si fottano tutti Wallace e Gromit e il loro spirito le loro gag la loro estetica quel cazzo di formaggio rappresentano la Gran Bretagna non c'è verso sono loro i veri testimonial sono loro i veri ambassador del fascino all'inglese in tutto il mondo Zucate S citazione a Go Go a Jurassic Park commedia che si fonde all'horror idee geniali uno dopo l'altro i gadget di Wallace sono stupidissimi ma funzionano tantissimo la regia è ganzissima perché ti fa salire ti fa salire una sorta di micro paura per una cosa che poi diventa estremamente demenziale subito dopo come grandi corti di Wallace e Gromit come pantaloni sbagliati no pantaloni sbagliati era doveva essere una commedia ma per quel pinguino penso abbia terrorizzato la mia generazione come non mai il mistero e la risoluzione dello stesso è interessante l'idea di vesti conigli che impazziscono per tutta la città è fighissimo e loro che diventano quasi degli acchiappafantasmi che vanno a recuperarli è stupenda veramente veramente un senior film la tecnica con cui è stato realizzato e non era facile realizzare un film del genere in stop motion ve lo posso assicurare è sopraffina veramente una chicca intramontabile da vedere allora Zeta la formica è veramente assurdo è un film di una dreamworks alla vecchia maniera è un film che riesce a divertire riesce ad appassionare ma è anche spietato questo è horror davvero la scena contro le termiti è un incubo non avevano paura avevano due palle così cioè i bambini andavano a vedere Zeta la formica convinti di vedere un'avventura in un formicaio un po' come a Bugs Life che era sicuramente più giocoso più divertente anche se aveva anche a Bugs Life aveva i suoi momenti un po' dark come la scena dell'uccellino che non è proprio leggerissima ma Zeta la formica ragazzi se la scena dell'uccellino della Bugs Life è disturbante la scena della delle termiti è un calcio nei coglioni più calcio nei coglioni è tremenda c'è ora spoilererò ma c'è Zeta che parla con una testa parlante cioè c'è il suo amico Barbados se non erro si chiama Barbatus sì Barbatus che con cui ci parla si incammina verso la guerra tra l'altro guerra voluta dal despota che l'ha utilizzata a livello politico per prendere il potere per rovesciare la regina e prendere il potere Barbatus muore tanto è quasi all'inizio paradossalmente e Zeta tira su la terra la testa staccata dal corpo di Barbados per parlarci e dagli l'ultimo saluto ok Dreamworks cioè e le termiti durante la guerra io se non l'avete visto guardatelo entro all'inizio la guerra cioè come arma principale le termiti hanno un acido che secernono dalla bocca con cui sciolgono le formiche questa è la guerra questo è nel film e noi vediamo le formiche mentre si sciolgono va bene sì con questo pezzo quindi forse a distanza di anni posso dire che per me è un capolavoro Zeta la formica perché oltre a queste scene horror oltre a questo coraggio enorme ci sono delle gag interessanti però c'è anche questa è una vera critica al capitalismo cioè si la palla che è una frase che Zeta affronta abbraccia dove effettivamente le formiche si compattano tutte in una palla per poter abbattere una parete facendosi anche del male diventano una palla e diventano una sorta di palla da demolizioni con cui demoliscono una parete per poter ingrandire il formicaio formicaio che in realtà si sta estendendo in alto perché il piano malvagio e il cattivo è arrivare a una sorta di stagno che li inonderebbe e porterebbe via tutto perché lui vuole una sorta di rinascita vuole un formicaio più potente vuole eliminare la merda eliminare proprio le formiche in fondo alla catena alimentare per creare un impero cioè è proprio Hitler eliminare quelli che lui ritiene inutili superflui le formiche che ritiene superflui per creare un impero fatto da formiche perfette chissà cosa vi ricorda questa cosa o altri della dittatura comunista e vabbè comunque questo è quanto e quindi loro si compattano e Z fa questo è un operaio che quando deve si compatta con le altre formiche per formare una palla è per abbattere le pareti e quindi deve essere una palla sì la palla questa è una critica al capitalismo cioè compattarsi tutti non si sa bene il perché non si sa chi è che dà gli ordini non si sa perché quegli ordini vengono dati qual è il grande piano del potente in cima alla catena alimentare ti devi diventare palla perché il potente ha dato l'ordine e poi quello è il formicaio pure è proprio una società critica una società appunto americana deviante alienante che prende anche tanto da Woody Allen tanto che Z viene doppiato da Woody Allen in quel film quello è un film anche di Woody Allen a cartoni perché comunque la sua impronta le sue influenze ci sono tra l'altro Z è doppiato da Oreste Lionello nella versione italiana che era il doppiatore ufficiale di Woody Allen quindi ha fatto anche un bel lavoro da quel punto di vista lì in Italia e quindi Z ovviamente anche qua cercherà di come si può dire anche grazie all'aiuto di esterni un po' come in Abug's Life ma il film comunque i film si sono influenzati perché c'è stata una dinamica aziendale che non vi sto a raccontare perché è veramente lunga e anche abbastanza tediosa però si sono influenzati e copiati più Z ha copiato non sto ripeto qua a pontificare però è che è bello perché poi Z chiaramente grazie alla principessa grazie a degli amici grazie a dei grandi insegnamenti riesce ovviamente a mandare a fanculo il cattivo a ripristinare la pace bla 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 guardatelo un film di una importanza unica perché fare un film d'animazione dove dentro ci metti Woody Allen ci metti una critica spietata all'America ci metti quelle scene horror inquietantissime e lo vendi ai bambini beh ha avuto le palle lo metto in S allora Galina in fuga è una bomba per vari motivi innanzitutto anche qui c'è molto dello spirito della Dreamworks Old School ci sono scene molto divertenti è un escape movie molto molto bello che cita i grandi classici dell'escape movie americano nonostante sia un film inglese ma il mood i colori la fotografia di Gallina in fuga è inquietantissima ti mette un'ansia incredibile e quei cazzo di cancelli quei cazzo di cani quella maledetta dannatissima stronza dell'allevatrice mette veramente una paura fottuta che sembra avere gli stivali dei nazisti peraltro a volte cammina come una nazista come un gerarca nazista che manda gli ebrei a morire e non sto scherzando perché se voi vedete la scena dell'accetta lei sceglie chi non ha fatto abbastanza uova chi non ha lavorato abbastanza nel campo che è un campo di concentramento palese e la manda a morire per farci un pasticcio di carne cioè è proprio cattivo il film però ragazzi la soddisfazione che ti dà cioè loro creano un aereo cioè ragazzi ci sono queste galline che ovviamente non possono volare vogliono fuggire da questo campo di concentramento scoprono che comunque l'allevatrice vuole trasformare vuole rebrandizzare il suo pollaio cioè probabilmente utilizza il pollaio come farm diciamo come fattoria per vendere le uova ok le uova però non fruttano più abbastanza e quindi decide di trasformare tutto in una grande fabbrica di pasticci di carne quindi vogliono mandare a morire tutte le galline loro lo scoprono e quindi accelerano il loro piano di fuga ne inventano svariati di piani di fuga però accelerano un piano un master plane di fuga per poter volare via da questo pollaio e andare verso una terra promessa e vivere allo stato brado arriva improvvisamente dal cielo questo salvatore Rocky che tra l'altro viene doppiato se non erro da Christian De Sica in originale da Mel Gibson e arriva questo Rocky che vola e loro si convincono che questo gallo possa volare che possa insegnarle insegnare a tutte le galline a volare in realtà è un gallo da circolo sparano con il cannone ed è bello però il piano che mettono mettono su creano un aereo tra l'altro un aereo in plastilina fantastico bellissimo e a me piacciono gli escape movie in generale forse ho apprezzato più di tutti Toy Story 3 anche per quello perché quando cercano di inventare il piano per scappare dall'asilo mi appassiono sono belli questi escape movie mi appassionano molto cioè come ognuno ha il suo ruolo deve andare tutto bene o va a puttare nel piano è l'ultima speranza c'hai l'anza che vada tutta a puttare anche se sai che è un film d'animazione quindi andrà tutto bene però è bello il design del 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 pollaio è incredibile il mood è inquietantissimo lei fa troppo sfavento il signor Tweedy è un demente ci fa molto ridere anche se in realtà dovrebbe morire anche lui malissimo e i personaggi sono interessanti poi chiaramente c'è il conflitto interno di lui che se ne va che ha raccontato una menzogna al pollaio poi ritorna per salvare insomma quella roba la troviamo sempre però è splendido epocale e poi c'è l'hardman è di plastilina e si butta in S forse si meriterebbe una ma è dell'hardman c'è quel design c'è quegli occhi ravvicinati c'è quella plastilina ci sono quelle idee c'è quel mood c'è quella cattiveria tutta inglese quindi vai in S e tutti i moodi cazzo Dragon Trainer S che divida c'è un altro voto per pare di no c'è un bimbetto che vive in un villaggio vichingo mi pare una osa di Genesi questo villaggio contrasta da sempre i draghi e il bimbetto trova una soluzione facendo amicizia con la con la razza più rara di Dragon Trainer e più pericolosa di Dragon Assoluto per rivoltare tutto il sistema e domare i draghi invece di ucciderli invece di sconfiggerli cessando una guerra eterna tra umani e draghi ci sono le razze i draghi suddivise in un libro in un almanacco per capire che potenzialità hanno e ogni drago ha un potere diverso e una cavalcata diversa quando scopriranno come cavalcarli c'è un boss drago che li schiavizza e che li manda in attacco e quindi è colpa sua e non dei draghetti poverini che vengono rincoglioniti drogati da questo vi cosa vuoi di più ci sono i draghi cosa vuoi ci sono i draghi cavalcati domati la guerra tra draghi umani i draghi rari i draghi con potenzialità uniche un drago gigantesco malvagio un kaiju che schiavizza tutti gli altri cosa cazzo volete di più una fetta di culo copinoli roba vista e rivista ma suca ma a un certo punto bisogna anche sucare nella vita perché se non si suca si gode solo a metà ingoiare palle levarsi i peli tra i denti sucare le robe viste e riviste si vedono tutti i giorni al cinema ma dipende come lo cucini il piatto le lasagne quante lasagne avrai mangiato quando la tua nonna ti porta le lasagne a natale che strabordano besciamella da tutti i pori dioboni calde belle con ragù diobono più saporito della tua vita l'avrà mangiata le lasagne dall'autogrill no probabilmente è sempre la solita zuppa è sempre quella roba trita e ritrita ma le lasagne della tua nonna saranno più buone no coglione saranno più buone sì diobono perché ci mette l'amore c'è morta su que diobono c'ha le vene varie cose che stanno per esplodere non ci vede più perché c'ha le cataratte distrutte c'ha due mesi di vita c'ha diobono ce n'ha per tre cate due ce l'ha già fatte ma aspetta solamente il natale attende il nipote una volta l'anno per tutto l'anno e ci ha messo una mo diobono sembra un chirurgo che sta scoprendo la cura per il cancro ci sta mettendo ogni sua energia ogni sua cellula per fatti quelle lasagne lì e te gli dici no no però trita e ritrita le lasagne le ho già mangiate mille volte no ti mangi le lasagne e stai zitto no comunque allora il due lo metto in A perché è molto bello però c'è un secondo tempo che non mi ha convinto c'è un secondo tempo certi elementi in secondo tempo non mi hanno convinto ho trovato troppo sbrigativo l'evoluzione del rapporto tra il padre di Hiccup e un personaggio ritrovato perché si sviluppa troppo velocemente si ritrovano c'è molto romanticismo le lacrime però quando finisce viene troncato subito questo rapporto per esigenze di trama diciamo così questo personaggio ritrovato sembra non battere ciglio la canzone le lacrime per la canzone un amore ritrovato bla 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 poi finisce tutto dopo poco tempo e lei però bisogna sconfiggere il cattivo no cazzo era così bello quel momento quel momento intimo romantico si ritrovano ti spiega perché se n'è andata cioè i vecchi livori e bla 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 e poi ma passiamo oltre quella cosa lì non mi è piaciuta l'ho trovata un po' troppo sbrigativa e uccide un po' il mood di quello che abbiamo visto prima mi piace perché quella scena è importante a livello emotivo soprattutto a fronte del primo capitolo però l'ho trovata un po' troppo sbrigativa e in contrapposizione con quello che abbiamo visto prima però tutto sommato è un buon film però quella cosa proprio non mi è data giù e lo metto in A Madagascar il primo guarda gli do un B dai gli do un B onesto è carino divertente però ragazzi non è che sia cioè ragazzi è un film commedia puro pieno di cazzate pieno di no ragazzi ma che S ma siete in pace avete visto che cazzo c'è in S dai ma di cosa stiamo parlando ragazzi dai è un film minore divertentissimo ganzissimi loro sono veramente fantastici ma rimane una commedia cioè la vecchietta piglia borsettate in metropolitana al leone dai ragazzi ma di cosa stiamo parlando cioè è divertente perché è una commedia slapstick super stupida demenziale e ci sta la vecchia che piglia borsettate al leone ma rimane lì rimane lì è un film buono è un film 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 per me io ho bisogno di altro quando guardo un film di animazione non voglio solamente la stupidità cioè a meno che non sia le foglie dell'imperatore allora lì ti concedo tutto però Madagascar non arriva a livello delle foglie dell'imperatore troppi balletti troppe cazzate no è bellino divertente l'ho visto un miliardo di volte però finisce lì cioè sono ganse le scene ci sono veramente scene super demenziali quella comicità demente che riguarda me però finisce lì cioè io non posso metterlo a livello di Z la formica ragazzi dai un film è coraggiosissimo ma nemmeno Dragon Trainer ragazzi sto guardando anche cosa c'è sopra Madagascar c'è Megamind sopra che è divertentissimo ma mette in mezzo altre 3000 cose in più cioè non esiste solo Principe d'Egitto ragazzi c'è una categoria sopra l'ess che non metterei sopra l'ess Principe d'Egitto è incredibile dai l'abbiamo anche visto insieme ragazzi colossale è un'opera eccezionale anche se non è chiaramente magari fedelissima rivede tantissime cose animazione eccezionale cioè non poi mi importa una sega cioè Disney rivede i classici 7000 volte sti cazzi se il Principe d'Egitto non è proprio fedele alla Bibbia sti cazzi è un bel film cioè è un bel film allucinante pieno di idee pieno quei colori quell'epicità inarrivabile cioè pomposo ma al punto giusto ma poi anche scene cattivissime gli schiavi presi affrustate la scena dove buttano i bimbi cioè lui scopre il suo passato e vede che buttano i neonati in bocca ai coccodrelli cioè veramente spietato però allo stesso tempo poetico romantico drammatico bello bello i primogeniti cioè veramente insano veramente insano e il dorado cazzo si parlava delle foglie dell'imperatore e del dorado è un po' figlio di quella comicità lì è figlio di quell'animazione lì ragazzi se Madagascar era demenziale ma non mi dava quel qualcosa in più che me lo fa mettere in A in S e il dorado invece ha quella comicità demenziale quel carisma nei personaggi quell'iconicità anche dei personaggi ma c'è anche degli sfondi pazzeschi un immaginario appunto incredibile cioè quella città d'oro fantastico l'immaginario veramente inarrivabile l'avventura anche tutto il gioco degli equivoci dove loro vengono scambiati per dei poi scoprono che non sono dei c'è il mago cattivissimo che fa sacrifici umani per sconfiggere poi in realtà forse sono dei davvero tutto bello poi ragazzi Miguel e Tullio sono dei personaggi incredibili che rimarranno impressi ovviamente a vita e la fuga del dorado con tutto l'oro con c'è che è una figa clamorosa che si mangia tutte le principesse Disney così questa è una parentesi che forse anche non è necessaria la partita quello sport assurdo fantastica la scena in cui il mago si accorge che loro non sono divinità perché gli cade il sangue dalla fronte è eccezionale eccezionale è un momento straordinario quindi abbiamo comicità abbiamo epicità abbiamo anche la dolcezza di questa civiltà che non capisce bene dove vuole andare non capisce bene come rivedere un po' le sue regole perché non si possono sempre sacrificare gli umani bisogna che ci sia l'intervento ah poi ragazzi gli invasori che vogliono colonizzare sono le merde sono i cattivi cioè Cortez è la merda delle merde è il cattivo finale cioè anche con quel design cattivissimo spietato vuole trovare il dorado per radere al suolo uccidere tutti e pigliare l'oro andare a fanculo cioè quella cosa non sottovalutiamola perché è veramente tremenda se ci soffermiamo un attimo su questo particolare c'è anche una scena di sesso fuori campo però si vede che è Miguel no Tullio la scopa non mi ricordo vabbè è quasi come Frollo sì 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 Tullio la scopa però questo era così anche storicamente sì sì infatti ma non è facile farlo vedere in animazione quindi ragazzi lo metto in S con gran tranquillità Shark Gale io l'ho trovato un po' imbarazzante ragazzi dico la verità ho apprezzato il fatto di voler metterci la mafia italamericana cercarlo di renderlo un po' anche un padrino sott'acqua così ma l'ho trovato un po' troppo demenziale troppi vipponi troppi troppi nomi altisonanti per cercare di tirare gente al cinema Will Smith Angelina Jolie ci avevano messo tutti dentro no non lo so non mi è piaciuto molto devo dire la verità non l'ho trovato dimenticabile poi c'è da fare il confronto con la ricerca di Nemo che se lo mangia cento volte quindi sì vabbè forse lo metto in F guarda non me lo ricordo bene forse riguardandolo forse lo rivaluto non lo so dovrei riguardarlo è da tanto che non lo vedo mettiamolo in F non ci si pensa più allora eeeh dai basta così non c'è da dire altro no ragazzi allora Shrek e Shrek 2 sono robe che hanno influenzato l'animazione tutta Shrek ha influenzato eeeh tutto ha influenzato tutte le measure ha influenzato la tecnica con cui si realizzano i film d'animazione cioè la CGI ha preso per il culo i film Disney che non erano ancora stati presi per il culo a questo livello il 2 amplia secondo me a dismisura questo concetto però avevamo già conosciuto quei personaggi avevamo già eeeh visto praticamente tutto però a quanto pare nel 2 non avevamo visto ancora tante cose cioè Shrek che si trasforma in umano Ciuchino che diventa un valoroso destriero abbiamo sviscerato un background enorme sulla famiglia di Fiona molto interessante quindi niente quindi sono Shrek è un S perché era tutto nuovo Shrek 2 non era più tutto nuovo ma allo stesso tempo gli autori ci hanno fatto capire che si poteva dare ancora di più e soprattutto si poteva ancora di più schiacciare l'acceleratore a dismisura con ancora battute più pese robe semisessuali nel mezzo perché quando Shrek si trasforma in umano di fronte a quelle a quelle tre donzelle gli dicono di tutto Principe Azzurro è fantastico tante nuove gag assurde è anche cattivo spietato quando deve Shrek 3 lo metto in B perché le gag non avevano più quella potenza dei primi due non mi è piaciuto come gli altri tutto iniziava a sapere di stantio la gag di andare a recuperare chi era Semola non Semola vabbè insomma Artù al college Shrek 4 l'ho trovato veramente bruttino l'ho trovato ecco questo l'ho trovato veramente un sequel pigro stanco che era stato fatto per guadagnare soldi non lo so forse era affezionante non lo so questo lo dovrei rivedere lo metto intanto in C c'erano delle gag carine mi pare però non lo so lo metto in C per ora Sinbad boh anche questo purtroppo non lo ricordo poco lo dovrei rivedere Sinbad non me lo ricordo mi ricordo che c'erano delle scene niente male guarda me lo metto lo metto in C per sicurezza perché non lo ricordo così bene perdonatemi lo rivedrò guarda sfrutterò l'occasione per rivedermelo Spirit S mi dispiace per chi non l'ha apprezzato o me non l'ho visto quindi non lo metto nemmeno Spirit è bellissimo di una poetica di una dolcezza di un romanticismo mai visto prima raro che gli americani si mettono dalla parte dei nativi americani e che veramente li renda dei personaggi positivi buoni paradossalmente le musiche sono fantastiche quegli sfondi sono da seghe perché mi ricorda mi ricordano i western i classici veramente che mi hanno scaldato il cuore amicizia tra uomo e animale straordinaria forse uno dei film che la descrive nella miglior maniera possibile ripeto un film che tocca il cuore anche del più spietato della persona più fredda del mondo è stupendo veramente un film stupendo che parla di libertà che descrive il selvaggio in maniera perfetta veramente bello un film anche di sentimento un film che se non vi piacciono quei film non è smielato però insegna i sentimenti come nessuno sa fare perché lo fa con una dolcezza con un tatto raramente che ho rivisto raramente nell'animazione veramente mainstream poi non ne parliamo sì Madagascar 2 era carino ma lo metto to in C perché comunque non era bello cioè non era divertente come il primo quello al circo lo metto in D perché no e i pinguini lo metto in C perché i pinguini mi fanno ridere sempre Madagascar 3 forse ancora più un po' faccio così ta e pinguini ta eh Madagascar 3 me lo ricordo veramente brutto però lo metto in E facciamo lo mettiamo in F e passa la paura